E gridate, 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 sai a me che me ne importa, e parlate, parlate, io fincerò di ascoltarvi per l'ennesima volta. Innanzitutto grazie di questo invito e torno con molto piacere ad Ancona, l'ultima volta era quando ero alla Banca Centrale Europea e discutevamo del ruolo della politica monetaria. C'è una crisi dei paesi avanzati, ed è una crisi che poi incide su alcuni settori dei paesi avanzati, quei settori in particolare che sono più facilmente attaccabili dalla concorrenza internazionale, tecnologicamente meno avanzati, e dunque quei settori più poveri, infatti il suo ragionamento è che questa è una crisi del debito dei poveri negli Stati Uniti, di subprime, è una crisi di persone poco abbienti che hanno cercato di acquistare una casa attraverso il debito, nella speranza che il loro reddito sarebbe aumentato nel tempo a un ritmo simile come aumentava il reddito pro capite del passato, e dunque sarebbero stati in grado finalmente di avere una casa. questo sogno in realtà non si è realizzato perché molte di quelle aspettative in realtà erano basate su ipotesi sbagliate, e dunque quell'indebitamento che si è creato in molti paesi, pubblico o privato, si è creato per cercare di sostenere un livello di vita che in realtà non era più sostenibile senza attuare dei cambiamenti profondi nel modo di funzionare della nostra economia. La crisi dei mutui subprime è il classico ciclo delle posizioni ultraspeculative descritto dall'economista Ayman Minsky. L'euforia del ciclo economico in espansione si traduce in prestiti pericolosi, favoriti anche dai bassi tassi di interesse. La stretta creditizia imposta poi dalle banche centrali tramite l'innalzamento dei tassi innesca la crisi finanziaria, l'Eman Brothers. La crisi dei mutui subprime dipende dunque dall'assefeur dei mercati finanziari e dalla progressiva di regolamentazione degli stessi. Parlare di vivere a di sopra delle possibilità appare quantomeno fuori luogo. Il cittadino è costretto all'indebitamento privato a causa dei tagli alla spesa pubblica che vanno avanti da decenni. Se si parte da questa ipotesi, che può essere sempre rimessa in discussione, tutti gli economisti devono partire da ipotesi, spesso ipotizzano anche cose strane, però è un punto di partenza. Se si parte da questa ipotesi, questa crisi ha una connotazione molto diversa e ha anche delle soluzioni molto diverse. Naturalmente dobbiamo verificare se questa ipotesi poi ha un rapporto con la realtà. Su questa analisi, su questo punto di partenza, quello che stiamo attraversando è una crisi di debito eccessivo che è stata accumulata per compensare una tendenziale riduzione del tasso di crescita delle nostre economie. Dunque è una crisi di debito eccessivo dal quale bisogna rientrare. C'è bisogno di risolvere un problema. Naturalmente bisogna essere molto attenti a questo punto e a guardare se vogliamo risolvere il sintomo o la vera causa della crisi. In realtà, all'inizio della crisi finanziaria, il debito pubblico in rapporto al PIL nei paesi sotto attacco, i cosiddetti PX, era molto basso o comunque in discesa. Nel 2007 la Spagna era il 36% di debito su PIL, l'Irlanda al 25% e il Portogallo al 68%. La tesi che la crisi dipenda dal debito pubblico risulta quindi del tutto priva di basi. Se la vera causa della crisi è un cambiamento nel sistema economico globale che porta a dover riconsiderare la struttura delle nostre economie, una crisi strutturale, ci vogliono dei cambiamenti strutturali. Se si guarda al sintomo, al debito, si prendono delle misure macroeconomiche di riduzione del debito. E lì, tra questi due elementi fondamentali, bisogna trovare il giusto equilibrio, ma non è possibile affrontare l'uno se non lo si affronta. La crisi si è abbattuta specialmente nella zona Euro. Inizialmente globale, la crisi mostra i suoi effetti più pesanti e soprattutto prolungati proprio nell'Unione Monetaria Europea. All'interno dell'Eurozona, gli aggiustamenti di politica monetaria e di spesa necessari a far ripartire l'economia risultano inattuabili a causa di scelte ideologiche infondate. Giappone e Stati Uniti hanno agito, seppur limitatamente, secondo le classiche ricette keynesiane di stimolo della domanda aggregata. Sono fuori dalla recessione e li prendono a crescere a ritmi assolutamente accettabili. Se si affronta solo la parte macroeconomica, credo bisogna come premessa togliere l'illusione che si esce da una crisi del debito aggiungendo debito, cioè una politica di stimolo della domanda finanziata attraverso il debito a meno di avere un moltiplicatore, cioè che la spesa aggiuntiva crei risorse fiscali tali da rimborsare il debito. Questa è un'ipotesi che credo non sia validata dal punto di vista statistico né econometrico e l'aggiustamento deve avvenire per forza attraverso una manovra di riduzione. A differenza di quanto sostiene Binismaghi, il caso giapponese e quello americano, ma più in generale l'intera storia economica, confermano l'efficacia dello stimolo della domanda aggregata. Con una disoccupazione che viaggia tra il 12% ed il 25%, le politiche della domanda sarebbero un vero tocca sana per le aziende europee e per l'occupazione. Inoltre, al contrario dei riferimenti di Binismaghi, la validità degli stimoli dal lato della domanda maggiore spesa pubblica è stata sia teorizzata che comprovata empiricamente dall'economista e premio Nobel norvegese Trigve Avelmo. Il moltiplicatore della spesa pubblica risulta essere molto maggiore del moltiplicatore derivante dal taglio delle tasse. Il problema è la gradualità, quanto si può essere graduali e in una situazione come questa di crisi globale, dato di un moltiplicatore molto elevato, l'ideale è un rientro dal debito molto graduale. Il problema è, è possibile fare un rientro graduale di questo tipo? Quali sono le condizioni che favoriscono questo scenario ottimale? E lì naturalmente dipende da alcuni fattori. Prima di tutto è che questo scenario graduale richiede più tempo, richiede la possibilità di continuare ad accedere ai mercati finanziari, cioè che i risparmiatori continui da investire in titoli di Stato e dunque che questo percorso di risanamento sia credibile, credibile non solo nell'anno che viene, ma in un orizzonte di medio periodo. E la credibilità di questo scenario da che cosa dipende? Dipende per esempio dalla credibilità del governo, dalla lunghezza del governo. I dati smentiscono la teoria mainstream secondo la quale gli spread dipenderebbero dalla stabilità dei governi. Il Belgio non ha subito attacchi speculativi, nonostante l'assenza di un governo. L'Italia stessa, dalla caduta di Monti fino al governo Letta, nonostante la continua instabilità del governo, ha visto i propri rendimenti scendere. Sostanzialmente lo spread dipende dal comportamento della BCE, come ampiamente riconosciuto dalla letteratura scientifica. Gli altri elementi che incidono su questa credibilità è anche la capacità del sistema economico di assorbire e di favorire questo rientro. Un sistema economico più flessibile è più credibile perché magari il debito nel breve periodo aumenta, però si sa che se l'economia è flessibile e è in grado di aumentare il potenziale di crescita, prima o poi il PIL, cioè la crescita, riprende a salire e a quel punto il debito rientra. Dunque ci vuole un sistema economico flessibile che abbia un potenziale di crescita forte. Si sa che l'economia flessibile è in grado di aumentare il proprio potenziale di crescita e dunque l'occupazione. Un concetto assunto come un dogma, tanto che non vengono mai fornite a supporto motivazioni né studi. Questo dogma dimostra come le tesi siano sostenute da finalità diverse, dalle teorie provate e riscontrate nei fatti. È sufficiente citare uno studio dell'Ocse, non certo un organismo avverso all'Unione europea, per smontare dalle fondamenta il dogma della flessibilità. I test contenuti negli Employment Outlooks del 1994 e del 2004 eseguiti dall'Ocse non presentano alcuna correlazione tra flessibilità, occupazione e produttività. Si vedano anche le dichiarazioni del capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Blanchard. Le differenze nei regimi di protezione del lavoro appaiono largamente scorrelate dalla differenza tra i tassi di disoccupazione dei vari paesi. Economic Policy 2006, per approfondimenti statistici e grafici, si rimanda all'opera specifica del professor Brancaccio. Il terzo elemento è una politica monetaria accomodante, una politica monetaria che compensa l'effetto restrittivo e come vediamo nella situazione europea attuale, la politica monetaria non dipende solo dalla banca centrale e dal livello del tasso di interesse, ma dipende anche dal tasso di interesse che poi le banche ricaricano sugli operatori finali, cioè le aziende e le famiglie e quel tasso di interesse in una situazione di crisi economica come quella attuale può essere molto diverso da paese a paese, nei paesi più in crisi come quello del sud dell'Europa, dove oltre alla manovra di restrizione fiscale c'è anche un sistema bancario magari in difficoltà, c'è un rischio di credito, c'è il meccanismo di trasmissione non è perfetto, i tassi di interesse in realtà rimangono molto alti e dunque per poter avere un percorso graduale bisogna anche risolvere questi problemi di trasmissione della politica monetaria. Il ciclo minschiano spiega anche che le banche agiscono in chiave prociclica. Quando il ciclo economico si contrae, le banche sono meno propense ad erogare prestiti, data la maggior difficoltà di rimborso dei crediti in fase recessiva. La banca centrale può fare poco o nulla per rimediare a questa situazione, come dimostra il continuo ed inutile abbassamento del tasso di sconto operato dalla BCE. Come possiamo verificare l'esistenza di queste condizioni? L'abbiamo visto in passato che purtroppo alcune di queste condizioni di gradualità, di poter attuare questo gradualismo non c'è, oppure magari si pensa che ci siano, ma poi in realtà queste condizioni nel tempo non si verificano, i mercati finanziari perdono la fiducia, la restrizione della politica fiscale in realtà è molto più dura di quella che si pensa e i mercati finanziari ci spingono contro, quando il sottotitolo del libro è Democrazia europea con le spalle al muro, le democrazie e i governi sono spinti verso il muro a decidere a un certo punto che il percorso di risanamento non è più sufficiente e deve essere accelerato, cioè i mercati perdono la fiducia. I mercati perdono la fiducia, qui l'ex membro della BCE sembra giustificare le azioni dei mercati, i mercati diventano il vincolo esterno che deve condizionare e spingere i governi democraticamente eletti a fare quelle riforme, riforme che vanno contro gli interessi degli stessi cittadini che li hanno eletti. Viene dunque ribaltato il paradigma della democrazia, non sono i parlamenti che decidono, sono i mercati. Ed è quello che un po' è successo nel 2011, se torniamo indietro di qualche anno, all'inizio del 2011 noi pensavamo come Italia di avere la possibilità di rientrare gradualmente, poi piano piano per tutti quei fattori che dicevo prima, la stabilità del governo, l'economia che non era sufficientemente flessibile, l'incapacità di prendere quelle misure, quelle riforme strutturali che consentivano di vedere una prospettiva di aumento del potenziale di crescita, piano piano i mercati hanno perso fiducia, il famoso spread è aumentato e caduto il governo Berlusconi e il successivo governo Monti ha dovuto prendere delle misure con le spalle al muro, come dito io. Il problema è che quelle misure, quelle misure di austerità diciamo, prese all'ultimo minuto, perché? Perché non erano state prese negli anni precedenti quelle misure necessarie proprio per consentire il gradualismo dell'aggiustamento, per rendere il sistema più efficiente, per renderlo più flessibile, misure che erano state prese dagli altri paesi europei, quelle riforme del mercato del lavoro, della concorrenza, riforma del sistema delle ricerche e sviluppo, tutti quei meccanismi che hanno consentito ad alcuni paesi di inserirsi meglio nel nuovo contesto globale e che invece in Italia ci hanno portato a chiuderci. Le riforme auspicate da Binismaghi rispondono al nome di riforme HART. Tari riforme hanno distrutto il mercato del lavoro tedesco, istituendo i famosi mini-job, lavori da 400 euro al mese, privi di contributi e previdenza sociale. Alla base dell'export tedesco ci sono le riforme pensate da HART, le stesse che Binismaghi auspica per l'Italia. Una strategia di deflazione salariale volta ad aumentare l'export operando dal lato dell'offerta anziché della domanda è miope e priva di prospettiva per vari motivi. Vincolare la propria economia alle esportazioni non è lungimirante. L'export dipende da molte ragioni, anche politiche. L'export non garantisce la distribuzione delle risorse guadagnate. La competitività è basata più sul prezzo che sulla qualità. La Cina e i paesi dell'est in generale ne sono l'esempio. E inoltre competere sui prezzi senza poter svalutare risulta controproducente. L'unico modo per competere risulta essere abbassare il costo del lavoro e dei salari, proprio come è accaduto in Germania. Gli aggiustamenti dei prezzi praticati con riduzioni salariali risultano più difficili se praticati contemporaneamente da tutti i paesi dell'Unione. Si innesca un processo per il quale il più bravo sarà quello che paga di meno i propri lavoratori, ovvero li sfrutta di più. La disoccupazione infine non viene combattuta ma mantenuta, in quanto rappresenta la migliore delle leve per il contenimento dei salari. Se vuoi una statistica interessante è il grado di apertura. La politica monetaria in questo contesto svolge un ruolo molto importante, non solo in Europa, ma in tutto il mondo, perché la politica monetaria ha il potere di allentare la pressione dei mercati, ha il potere di dare ai governi più tempo. E l'abbiamo visto, lo vediamo tutti i giorni negli Stati Uniti, ogni volta che la Banca Centrale interviene sul mercato per comprare titoli di Stato, dà tempo al governo americano per mettere su un piano di rientro più graduale. Lo vediamo in Giappone, lo vediamo, l'abbiamo visto anche in Europa. Nel 2011, quando la Banca Centrale europea è intervenuta sui mercati, l'ha fatto per consentire all'Italia, alla Spagna in particolare, di mettere in piedi un programma di risanamento. Il problema qual è? È che la Banca Centrale, togliendo la pressione dei mercati, toglie un elemento che spinge i governi ad agire nel senso delle riforme e dei risanamenti. Di nuovo lo vediamo, più la Banca Centrale statunitense interviene, più l'amministrazione americana e il congresso si disinteressano dei programmi fiscali e li rimandano. In Giappone addirittura la nuova manovra di risanamento è rimandata nel tempo, c'è addirittura un'espansione. E anche in Europa, ogni volta che la Banca Centrale interviene, i governi si sentano tranquilli. Lo vediamo in questo momento, quegli spread si sono abbassati, siamo tutti contenti perché i mercati non ci penalizzano, però poi il dibattito politico non è più sulle riforme e sulle cose da fare, ma è sui cambiamenti al margine del limo piuttosto che di un'altra tassa da aumentare o diminuire. Dunque c'è questo rapporto perverso, la Banca Centrale, la politica monetaria ha un ruolo politico, può avere un ruolo politico che è molto pericoloso perché perde la sua indipendenza, può dare a un governo più o meno tempo per fare quelle cose che deve fare. Però spesso abbiamo visto che quando gli dà più tempo, i governi che agiscono solo quando sono sotto pressione, quel tempo non lo usano bene. E' l'ammissione del ruolo del tutto politico della BCE. La Banca Centrale europea manipola artificiosamente gli spread, acquistando o meno titoli di debito degli stati in difficoltà. La BCE con la clava dello spread spinge e obbliga i governi a fare delle riforme imposte dai mercati, riforme delle pensioni, del mercato del lavoro, privatizzazioni, riforme che aggravano la crisi, ma favoriscono i profitti delle elite mercantili. Lo usano per non fare le cose, si devono fare certe cose, si devono convincere i cittadini che ci arrivano fatti alcuni passi avanti nell'integrazione europea, sono passi avanti difficili, non si ha spesso il coraggio come politica di prendere decisioni impopolari contro la volontà dei propri cittadini. Lo si fa solo quando si è in grado di dire ai cittadini se non facciamo questo passo avanti dell'integrazione, oppure se non prendiamo queste misure, ci sarà la catastrofe. La politica oggi utilizza la crisi finanziaria per fare delle misure, per prendere misure coraggiose che non ha evidentemente il coraggio di prendere perché sono decisioni impopolari che sono difficili da spiegare. Le riforme proposte, cioè imposte dai mercati tramite l'azione politica della BCE, non fanno che aggravare la crisi. Taglia la spesa pubblica, abbattimento del debito pubblico, austerity e deregolamentazione del mercato del lavoro sono tipiche di visioni economiche ancorate a modelli teorici superati e fallimentari. Sentendo parlare di tagli pubblici al debito e alla spesa, sembra che Bini smaghi viva ancora il regime di gold standard. Viene detto che i tagli alla spesa pubblica e al debito liberano delle risorse, purtroppo è vero il contrario. I tagli bruciano risorse, posti di lavoro, consumi e domande aggregate in generale, portando l'economia in una spirale deflattiva senza fine. Di nuovo non è una caratteristica solo europea, se vediamo la crisi americana, prima o poi, se queste misure non vengono prese, per agire. Dunque ci vuole più coraggio politico, cosa che è facile da dire per chi non è in politica, però d'altra parte bisogna anche che qualcuno lo dica, è molto più difficile per chi è in politica e essere in politica oggi è molto più difficile che 30-40 anni fa quando l'economia cresceva, in un mondo di oggi è molto più complicato, però abbiamo bisogno di una visione più di lungo termine per uscire da questo circuito vizioso nel quale siamo entrati. Grazie. Grazie innanzitutto per l'invito a Pietro Alessandrini, Alessandro Pisbitero e ai componenti di questa facoltà. Allora, in campo economico, come voi sapete, si definisce Falco il nemico per eccellenza delle politiche del denaro a buon mercato e si definisce Falco il ferreo sostenitore delle politiche di austerità fiscale. Ecco, voi probabilmente saprete che Lorenzo Binisbaghi è stato talvolta definito un falco. Un paio d'anni fa il Wall Street Journal lo definì per l'appunto il falco della politica fiscale e varie agenzie di stampa hanno più volte annoverato Binisbaghi tra i falchi del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea. Ora, voi sapete che le decisioni dei singoli membri del Consiglio Direttivo non vengono rese note alla stampa, quindi etichette del genere possono essere il prodotto di mere illazioni giornalistiche, quindi lasciano un po' il tempo che trovano. Ad ogni modo una domanda che sembra legittimo porre è questa, cioè il libro che noi stamattina discutiamo conferma questa etichetta di falco che più volte è stata magari arbitrariamente attribuita a Lorenzo Binisbaghi? Questa è la domanda che credo sia il caso di porci. Ebbene, se guardiamo diciamo alla sintesi che Lorenzo Binisbaghi ha offerto stamattina, ebbene sia pure in modo raffinato, intelligente, beh si direbbe che il falco ha confermato la sua natura, perché essenzialmente ci sta dicendo che è colpa nostra e che dobbiamo effettuare le riforme strutturali per poter uscire dalla crisi. E bisogna anche dire che in maniera brutalmente efficace, come è tipico dei giornalisti, Franco Locatelli lo ha un po' seguito, diciamo, in questa valutazione, perché Locatelli ha detto abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità e quindi dobbiamo un po' rimediare ai pagordi del passato. Ecco, io mi permetto di osservare che questa affermazione è sbagliata, o quantomeno dovrebbe essere, diciamo, maggiormente argomentata. Ma se guardiamo al libro, se guardiamo al libro e non all'esposizione di Stamani, ebbene qui il discorso si fa più complesso, perché questo non sembra il libro scritto da un falco, per due motivi essenzialmente, che a mio avviso sono due debolezze. Primo, un falco magari può essere fastidiosamente apodittico, ma deve sempre risultare lineare nella sua argomentazione, perché altrimenti non è un falco. E questo libro invece, a mio avviso, si caratterizza per una serie di rilevanti contraddizioni analitiche, che come vedremo poi generano delle incongruenze sul piano politico. Secondo motivo, e seconda debolezza, un falco può dirsi tale solo se è assolutamente, risolutamente convinto delle posizioni che assone. Ecco, questo libro invece a me pare carico di dubbi, di incertezze. Soprattutto, come cercherò di argomentare, questo libro non offre una chiara soluzione politica per la crisi europea. Intendiamoci, queste sono appunto delle debolezze, una contraddizione logica e, diciamo, un'incertezza politica, ma sono anche i punti che a mio avviso rendono questo libro interessante e che lo distinguono dalle argomentazioni che sono tipiche dei falchi e che di solito sono un pochino rozze. Prima però di esaminare questi punti deboli, io vorrei menzionare almeno uno dei punti di forza di questo saggio, che è lo scetticismo. Questo libro in particolare è scettico nei confronti della possibilità che in Germania maturi una disponibilità politica a riformare l'unione, nel senso che viene da molti auspicato in Italia e altrove. Per esempio, Binismaghi ci ricorda correttamente che le autorità tedesche aderirono all'euro a condizione che mai, mai si costituisse una unione fiscale, intesa come unione che preveda trasferimenti dai paesi più forti ai paesi più deboli. Da allora i tedeschi non hanno mai cambiato opinione e ho motivo di ritenere sulla base proprio di quel che dice Binismaghi che nemmeno a settembre, dopo le elezioni, cambieranno opinione. Ecco, io credo che in una fase storica che è letteralmente dominata dalle vane speranze, io credo che questo scetticismo sia benefico. Credo che lo scetticismo sia oggi una sorta di igiene del pensiero politico, direi soprattutto in Italia, e di questo bisogna dar merito al libro di Binismaghi, sebbene giungeremo a conclusioni opposte rispetto a nessuno. Ma torniamo ai punti, a mio avviso, deboli del saggio di Binismaghi. Dicevamo dell'esistenza di alcune contraddizioni analitiche, e mi spiego. In questo libro, mi si corregga se sbaglio, io ho contato almeno tre passi in cui Binismaghi riconosce che le politiche di austerità possono avere effetti recessivi intensi e prolungati nel tempo. Ora, riconoscere che gli effetti dell'austerity possono essere intensi e prolungati nel tempo, significa che ai problemi tipicamente keynesiani, di carenza, di domanda di beni e servizi, si sta implicitamente attribuendo un ruolo che travalica il rassicurante consueto perimetro dell'analisi di breve periodo. Un perimetro che pure Binismaghi in altri passi del libro cita, ma a questo punto io direi in modo contraddittorio. Ora, il fatto che Binismaghi qui e là nel libro riconosca che la carenza di domanda può protarsi nel tempo, in fondo è anche un segno della evoluzione della ricerca economica. Gli studi recenti del Fondo Monetario Internazionale, che pure Binismaghi cita di sfuggita, così come molti altri contributi scientifici, tipo eterodosso ma anche mainstream, questi contributi in realtà evidenziano che l'austerity può abbattere i tassi di crescita non solo in modo più intenso del previsto, ma anche per periodi più lunghi del previsto. E l'austerity può addirittura quindi determinare una caduta della stessa capacità produttiva del sistema. Abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, come vedete diventa un po' più complicato questa chiave di lettura. Binismaghi in almeno tre passi di questo libro ammette in misura più o meno implicita queste possibilità. Ora perché è così importante il riconoscimento che una carenza di domanda di beni e servizi può essere intensa e può protrarsi nel tempo? Beh, è importante perché le sue implicazioni da un punto di vista logico politico sono gigantesche. Questo Keynes e i keynesiani lo hanno sempre saputo. Perché vedete facciamo un esempio, un esempio tra i tanti che potremmo fare. Riconoscere che la carenza di domanda di beni e servizi può protrarsi nel tempo mette radicalmente in crisi l'idea che si possano per esempio distinguere situazioni di illiquidità e situazioni di insolvenza. perché? Perché l'insolvenza dipende a questo punto, in una certa misura, dalla stessa politica economica di domanda effettiva. Ecco, io credo che affrontare a viso aperto questa implicazione sarebbe importante perché tra le altre cose aiuterebbe ad esaminare, io credo in maniera anche più franca e più smaliziata, il tema della unione bancaria, per esempio. Un tema al quale Pini Smaghi tiene particolarmente, se ho ben capito. Perché intendiamoci, l'unione bancaria che attualmente è sul tavolo delle trattative europee, che Pini Smaghi promuove, se verrà attuata, non implicherà semplicemente una centralizzazione della vigilanza nelle mani della banca centrale europea, ma implicherà pure una cosa che Pini Smaghi non dice o quantomeno lascia un attimo in sospeso, e cioè implicherà pure che la banca centrale europea assumerà il potere di orientare le future ristrutturazioni del sistema bancario europeo, dove per ristrutturazioni si intende evidentemente che la BCE decide in virtù della valutazione di insolvenza che deriva dalla vigilanza, la BCE decide se una banca deve chiudere, deve essere liquidata, magari deve essere acquisita, magari deve essere acquisita da un'altra banca di un altro paese. Ecco, se però il problema che in esiano della domanda effettiva conta al di là del breve periodo, se quindi diventa concettualmente difficile distinguere posizioni illiquide e posizioni insolventi, ebbene allora il potere di orientare le ristrutturazioni che verrebbe affidato alla banca centrale europea non può in alcun modo essere definito neutrale e quindi sarebbe opportuno che venissero discussi e resi espliciti i criteri in base ai quali si vorrebbe che questo potere venisse esercitato, detto brutalmente, detto brutalmente, se l'austerity contribuisce a generare situazioni di insolvenza all'interno dei sistemi bancari delle paesi periferici, bene diventa poi alquanto imbarazzante assegnare ad un'autorità centrale il potere di decidere se quelle stesse istituzioni bancarie debbano essere chiuse, liquidate ed eventualmente acquisite. Ecco, il fatto che a questo tipo di questioni fondamentali siano date risposte, mi permetto di osservare, elusive, difensive, magari basate sull'ormai desueto e mi pare smentito concetto di neutralità e di indipendenza della politica monetaria, a me sembra che riveli un fondamentale imbarazzo da parte dei grandi protagonisti della politica economica europea, tra cui indiscutibilmente Binismaghi va annoverato. E qui vengo al secondo punto, a mio avviso debole di questo saggio, l'assenza di una chiara soluzione politica per la crisi europea. Perché dico questo? Innanzitutto chiariamo che Binismaghi, come giustamente Pietro Alessandrini faceva notare, Binismaghi aderisce alla tesi secondo cui la crisi dell'eurozona non è stata causata da squilibri nei conti pubblici, ma è stata causata, in larga misura, da squilibri nei conti esteri, cioè squilibri nei rapporti tra paesi esportatori netti e quindi creditori verso l'estero, come la Germania, e paesi tendenzialmente importatori netti verso l'estero e quindi debitori verso l'estero, come ad esempio l'Italia ed altri. Ecco, questa tesi di Binismaghi è corretta. È una tesi che svariati economisti avevano avanzato già prima della nascita della moneta unica. Mi permetto di citare tra i tanti Augusto Graziani, perché è stato uno dei punti di riferimento della mia formazione intellettuale. Giusto per inciso, mi permetto di fare notare che qualche anno fa Binismaghi non sembrava nutrire particolari preoccupazioni nei confronti degli squilibri nei conti esteri. In un saggio pubblicato nel 2007, mi si correga se sbaglio, sul Journal of Policy Modelling, Binismaghi tendeva a considerare questi squilibri più un fatto fisiologico che una patologia. Ad ogni modo il pensiero degli economisti cambia, evolve, non è questo il problema. Il vero problema è che Binismaghi crede ancora nella possibilità che tali squilibri possano essere superati attraverso un impegno da parte dei paesi debitori a realizzare riforme strutturali, che per esempio rendano il mercato del lavoro ancora più flessibile. Queste riforme, secondo Binismaghi, consentiranno di ridurre i costi del lavoro per unità di prodotto, consentiranno di ridurre i prezzi e permetteranno quindi di riequilibrare i conti esteri tramite un aumento delle esportazioni nette. Il problema è che questa idea non sembra finora trovare riscontro nei dati. Prendiamo il caso dell'Irlanda, che dovrebbe essere il più favorevole per la Binismaghi, perché rispetto al resto dei paesi dell'Eurozona l'Irlanda ha già il più basso indice di protezione del lavoro calcolato dall'Ox. Quindi, come dire, l'Irlanda è un paese ideale dal punto di vista della flessibilità del mercato del lavoro. Ebbene, se guardiamo l'andamento macroeconomico dell'Irlanda, noi scopriamo che dal 2007 al 2012 questo paese ha fatto registrare una caduta della domanda interna e del reddito che in termini reali è equivalente a quella che ha caratterizzato l'Italia e che in termini nominali è molto più pesante e che lascia presagire non una correzione, ma quella che Fisher e poi Keynes definivano defilazione da debiti. Dunque, anche l'Irlanda fino a questo momento ha fatto registrare un riequilibrio dei conti esteri in larghissima misura basato non sulla flessibilità di salari e prezzi, ma sul crollo della domanda interna. Certo, Binismaghi può obiettare che in Irlanda la produttività è aumentata e può obiettare che il costo del lavoro per unità di prodotto è caduto in misura significativa, il che dovrebbe far ben sperare magari su un riequilibrio futuro basato sulla competitività piuttosto che sull'austerity. Ma questi, fino a che consideriamo i dati attuali, questi li dobbiamo considerare dei meri auspici, perché i dati non ci danno questo risultato. Ed inoltre il Fondo Monetario Internazionale e tra gli altri Paul Krugman hanno segnalato una cosa interessante, e cioè che l'aumento della produttività ingrandese è in buona misura il risultato non di un incremento di efficienza, ma di un banale effetto contabile, perché moltissime imprese irlandesi ad alta intensità di lavoro sono scomparse, mentre le multinazionali ad alta intensità di capitale sono rimaste, il che automaticamente ha accresciuto la produttività irlandese senza che si sia prodotto un miglioramento in termini di efficienza nei singoli settori considerati. E dunque il caso irlandese, ma questa è soltanto un'opinione, benché supportato dai dati mi sembra, ecco il caso irlandese sembra l'ennesima chimera dei fautori di nuove dosi di flessibilità del mercato del lavoro, ma per quel che ci dicono i dati il caso irlandese non costituisce un esempio di soluzione della crisi. Ebbene, e concludo, se noi mettiamo insieme lo scetticismo di Binisman, circa un cambiamento negli indirizzi politici tedeschi, uno scetticismo che a mio avviso va condiviso e lo affianchiamo però al fatto che Binisman non sembra avere una soluzione supportata da dati riguardo alla soluzione della crisi europea, ebbene c'è da essere purtroppo pessimisti sui destini utili dell'Unione monetaria europea. Grazie. Dunque, parzialmente il, non so se la critica, ma l'osservazione che questo libro pone più domande di quante risposte, secondo me è un pregio. Non cercherò di rispondere a tutte le osservazioni, in parte le troverete nel libro, e non voglio nemmeno abusare della mia posizione di essere l'ultimo ad intervenire. A Professor Brancac, no, mi fa piacere di non essere un falco, credo che ho capito che non sono un falco, forse in passato lo si pensava, non pensavo di essere parte di questa categoria. Non offro chiare soluzioni, credo che offro alcune direzioni da seguire, il problema, come dicevo, è politico, è una sfida enorme, perché il mio problema è che l'austerità cattiva viene dopo la mancanza di scelte fondamentali. L'Italia non ha fatto delle scelte fondamentali prima e dunque muove l'austerità, perché è un suicidio, è una scelta. È più facile in questo Paese aumentare le tasse che fare delle riforme fondamentali. E lì voglio tornare su un punto, perché i numeri sono importanti. Il confronto con l'Irlanda, guardiamo i numeri, si va a vedere i numeri, basta entrare sul sito della Commissione Europea, e innanzitutto l'Irlanda è venuta da una crisi del debito enorme, cosa che noi non abbiamo avuto. Ma l'aggiustamento negli ultimi 5 anni, è vero che l'export non è stato tutto, l'export irlandese più o meno è andato come l'export italiano, ma l'import italiano è stato drammatico. Meno 7% nel 2012, con l'irlandese è aumentato, e meno 2,2 nel 2013. La crisi è molto più pesante in Italia. Se prendiamo il PIL cumulato dal 2007, dal 2008, 2009, fino al 2013, mi sono riguardato i dati che vedete sul sito, l'Irlanda ha fatto meno 5, e ha ripreso a crescere dal 2011, ha ripreso a crescere. Io continuiamo ad andare giù, quest'anno sarà negativo, in Irlanda la scende. La disoccupazione in Irlanda scende da noi tale, il debito pubblico da noi aumenta, continua a aumentare, in Irlanda scende. Ma la cosa più grave, la cosa fondamentale che dico Brancano. Partiamo dieci anni fa, dal 1998, dal 1998 a prima della crisi di Irlanda, ha fatto più 68% di chi? Questa contrazione di 5 punti, mi porta poveretti a più 60. Noi, prima della crisi, abbiamo fatto più 15, meno di 1% all'anno, e questi meno 5, ci riportano indietro di quasi 10 anni, e se prendiamo il pil pro capita, siamo indietro di 15 anni. Il problema dell'Italia non è solo l'aggiustamento di questi anni, è quello che non è stato fatto prima, che fa sì che noi continuiamo ad andare giù, mentre l'Irlanda sta uscendo dalla crisi, la disoccupazione è un po' più alta che l'Italia, però sta diminuendo. E quindi il mio problema non è solo una crisi, una critica all'austerità, è una critica all'austerità fatta male e fatta tardi. L'Irlanda ha avuto un aggiustamento drammatico, anche perché è una stessa drammatica, ma stanno meglio che 5, 6, 7 anni fa. In Italia noi siamo peggio di 5, 10 anni fa, perché è un paese che non ha la capacità di cambiare. Non devo abusare perché lui non ha il diritto di rettica, però magari avremo altre occasioni di dibattito. Però questa è la cosa fondamentale. Io sono quasi più critico degli anni prima della crisi che dell'aggiustamento recente. sono anche critico degli anni fa, ma noi abbiamo perso troppo tempo. Però se non cambia la capacità politica di guidare il paese in un'altra direzione, torneremo alle misure che nessuno si vuole. Questo credo che la grossa sfida per paesi come Italia e altri paesi europei, ma in Italia in particolare. Quindi grazie di nuovo di aver letto il libro e dei commenti. La tesi centrale di Binismarli è che sarebbe possibile ridurre il deficit verso l'estero, l'indebitamento verso l'estero dei paesi europei maggiormente in difficoltà attraverso non tanto le politiche di austerità, quanto piuttosto le cosiddette riforme strutturali. Per esempio la riforma e la ulteriore flessibilizzazione del mercato del lavoro. Secondo Binismarli, se fosse, diciamo, possibile andare avanti con ulteriori dosi di liberalizzazione del mercato del lavoro, quindi automaticamente anche di ulteriore precarizzazione dei contratti di lavoro, a suo avviso sarebbe possibile aumentare la competitività dei paesi maggiormente in difficoltà e questi paesi potrebbero di conseguenza aumentare le loro esportazioni, ridurre le loro importazioni e questo consentirebbe loro di migliorare la loro posizione verso l'estero senza dover ricorrere alle politiche di austerità o quantomeno potendo ricorrere alle politiche di austerità in misura meno accentuata di quanto non si faccia oggi. Questa è la tesi chiave di Binismarli e il tentativo nel quale Binismarli si è cimentato, a mio avviso con poca fortuna, è stato quello di insistere sull'idea che l'Irlanda possa costituire un esempio di paesi che riesce ad attuare riforme nella direzione della competitività e quindi per esempio con dosi di liberalizzazione del mercato del lavoro eccezionali e che questo permette a quel paese di uscire dalla crisi molto più efficacemente di quanto non stiano facendo l'Italia e magari gli altri paesi del sud Europa. Ecco, questa tesi mi pare che venga smettita dai fatti, nel senso che Binismarli dimentica per esempio di ricordare che l'Irlanda ha subito uno shock dal punto di vista della disoccupazione dal 2007 al 2012 che va ben al di là di quello che ha subito l'Italia. Lo shock della disoccupazione in Irlanda ha implicato una crescita della percentuale di disoccupazione del 212%, a fronte di una crescita della disoccupazione in Italia pur grave del 75%. Ma se anche volessimo guardare ai dati contabili, ai dati di bilancio, quelli sui quali maggiormente si soffermano i tecnocrati di Bruxelles e della Banca Centrale Europea, potremmo notare che per esempio anche il famigerato rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, al quale molto tengono i tecnocrati di Bruxelles e di Francoforte, ebbene in Irlanda è letteralmente esploso. Noi abbiamo registrato in Irlanda una crescita tra il 2007 e il 2012 del debito pubblico in rapporto al prodotto interno lordo del 370%, a fronte di una crescita in Italia del debito pubblico di appena il 22%. Ecco, questi sono soltanto alcuni degli esempi che testimoniano come il caso di Bruxelles è in realtà molto più controverso e complicato di quanto magari le parole di Bini Spaghi lasciassero intendere. Va oltretutto tenuta presente una cosa. E cioè che in realtà nel 2011, e questo è un altro aspetto che Bini Spaghi mi pare che abbia trascurato, nel 2011 l'Irlanda è uscita fuori mercato, nel senso che non è stata più in grado di collocare i propri titoli sui mercati finanziari. E questo ha fatto sì che l'Irlanda dovesse ricevere aiuti dalle istituzioni internazionali e dagli altri paesi europei per un ammontare complessivo di ben 85 miliardi di euro. L'Irlanda è stato uno dei primi paesi che ha dovuto ricevere ingenti finanziamenti dalle istituzioni europee per poter rimediare alla incapacità di collocare i propri titoli sul mercato finanziario. Il che la dice lunga sulla possibilità di considerare il caso irlandese come un caso, diciamo, di scuola, un caso virtuoso. Non è esattamente così. Ma poi, ritornando sulla questione che mi pareva fosse una questione centrale, ma che in realtà Bini Spaghi ha eluso, nel mio intervento io avevo cercato di chiarire che in realtà anche l'Irlanda, anche l'Irlanda sta operando una cosiddetta correzione dei conti esteri dal lato dell'austerity, non dal lato della competitività. E questo può essere testimoniato da vari fattori, tra cui appunto il fatto che l'Irlanda ha visto letteralmente precipitare il proprio prodotto interno loro in termini nominali, addirittura in misura di gran lunga superiore la precipitazione rispetto a quella italiana. Ed inoltre l'Irlanda in realtà ha operato una correzione dei conti esteri molto più dal lato delle importazioni, che dipendono dal reddito nazionale irlandese, piuttosto che dalle esportazioni, che dipendono in misura maggiore dalla competitività delle merci. In particolare, il miglioramento dal lato delle importazioni è stato nell'ordine del 20,5%, quello dal lato dell'esporto irlandese di appena il 2,4%. Ecco, a me pare che sulla base di questi dati l'idea secondo cui c'è qualche paese che sta comportandosi in modo virtuoso, magari attraverso dosi ulteriori di precarizzazione del mercato del lavoro, e siamo noi del sud Europa i cattivi che ci ostiniamo a non operare le famigerate riforme strutturali, e con questa idea mi sembra francamente smentita, smentita dei fatti. Siete alto da corsa e non c'è modo di farvi rallentare, e non avete mai niente da dire, non sapete ascoltare, e quanto dolore gratuito, buttate per il mondo, invece di nuotare...